In un aggiornamento della strategia di sviluppo da parte di CD Projekt RED, lo studio cambierà il modo in cui implementa tutte le funzionalità online di Cyberpunk 2077. Bentornati qui su gaming galaxy il vostro portale di intrattenimento per build news e guide dei vostri giochi preferiti lo so oggi dovevano uscire gli approfondimenti o meglio il primo video sugli approfondimenti riguardante la pace 1.2 ma è il mio compleanno come al meglio mentre sto registrando è il mio compleanno quindi non avevo minimamente voglia di impegnarmi scusatevi ma non ce ne facevo e quindi video un po più frivolo frivolo chiamiamolo frivolo e quindi vi porto questa bellissima notizia o bellissima me lo direte voi qua sotto nei commenti quindi partiamo subito sebbene fosse pianificata una modalità multiplayer per Cyberpunk 2077 CD Projekt ha offerto un vago aggiornamento durante il classico incontro strategico ora è possibile che questo progetto sia o in ritardo o addirittura stato cancellato così con tante altre patch come tante altre patch e correzioni necessarie per Cyberpunk 2077 ancora necessarie ovviamente per portare l'esperienza di gioco al passo con le aspettative non sarebbe sorprendente vedere CDPR abbandonare la modalità multiplayer mentre il 2022 era la data di uscita prevista per questa modalità CD Projekt in realtà non ha dato molti dettagli su ciò che i giocatori dovrebbero aspettarsi ma le perdite di Cyberpunk 2077 all'inizio di quest'anno hanno dettagliato qualcosa sulla falsa riga di una modalità rapina o una modalità deathmatch in realtà non si capiva c'era qualche dettaglio hanno cliccato qualcosina ma in realtà non si capiva ora però con questa nuova riunione è probabile ed è possibile che una modalità multiplayer potrebbe non arrivare affatto durante l'aggiornamento strategico o la riunione strategica vabbè durante la riunione in pratica il presidente adam ha delineato i cambiamenti che CD Projekt sta portando in aree quale l'efficienza dello sviluppo di giochi e il rafforzamento della comunicazione interna e l'adeguamento delle campagne di pubbliche relazioni sebbene lo studio non abbia molto da dire sulla modalità multiplayer che ovviamente i fan si aspettano che arrivi l'anno prossimo CDPR afferma che è attualmente in fase di riconsiderazione allo stesso tempo CDPR afferma che la funzionalità online quindi tutta la funzionalità online non sono in sviluppo solo ed esclusivamente per il titolo come cyberpunk ma cercano di portare vogliono portare online tutti i suoi titoli ma cosa questo significhi nello specifico rimane comunque un mistero in precedenza CDPR è ricaduto sul ragionamento secondo cui molti glitch e molti glitch e bug di cyberpunk sono dovuti al alla tecnologia di vecchia data di ps4 xbox one motivo per cui gira molto più agevolmente sulle nuove console su pc si riscontrano però anche sulla nuova generazione di console ancora dei problemi come arresti anomali o la scarsa intelligenza artificiale in realtà questo si riscontra un po' comunque con questo in mente è difficile immaginare un'esperienza di gioco fluida con il multiplayer per cyberpunk almeno sulle vecchie generazioni forse questo significa che il CDPR intende lasciarsi alle spalle la precedente generazione di console ti prego dio fallo per quanto riguarda una modalità multiplayer e concentrarsi principalmente sul pc ps5 e xbox serie x con l'hardware che gestisce molto meglio le richieste che cyberpunk ha bisogno d'altra parte molti giocatori concordano sul fatto che se CDPR offre un multiplayer difettoso potrebbe danneggiare ancora di più la reputazione dello studio piuttosto che risolverlo ad ogni modo questo recente aggiornamento di CDPR non fornisce alcuna informazione sulla modalità multiplayer di cyberpunk 2077 e quindi non dovremmo in realtà sorprenderci se verrà cancellato o avrà un ritardo nel futuro bene io credo di aver finito qua questa era la notizia bomba flash ma è bomba neanche la chiamerei più di tanto quindi la modalità multiplayer attualmente che dovrebbe uscire nel 2022 ed era stata annunciata potrebbe non arrivare o potrebbe essere cancellata soprattutto potrebbe non arrivare mai per le vecchie console quindi ps4 xbox one voi cosa ne pensate io sinceramente se abbandonassero le vecchie console e rimanessero su quelle nuove attuali e ovviamente sui pc sarei solo che felice primo perché si risolverebbero il 90 per cento dei problemi che sono dovuti a questo gioco e seconda cosa perché oramai sono macchine obsolete a dir poco è vero che ancora la fornitura di ps5 xbox serie x non è fatta per il grande pubblico o meglio le continuano a vendere tutte ogni volta che arrivano scompaiono dagli scaffali e quindi ci vorrà ancora un po per far avere a tutti coloro che hanno le vecchie console una nuova di nuova generazione ma immagino che per fine anno lo avranno tutti e quindi non ci saranno comunque più problemi riguardo alla ps4 xbox one è vero anche che magari qualcuno non ha voglia di aggiornarsi e spendere quei soldi quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate io sono molto curioso anche perché non gioco su console quindi non so realmente qual è la vostra idea e mi piacerebbe conoscerla e noi ci rivediamo con il prossimo video gg a tutti quanti